www.wr6.rai.it Quarto della ripresa, Cesene e Foggia 0-0, a voi studio. Altri primi tempi a Torino, Juventus 0-0, Sampdoria 0, a Vicenza, Lannerossi Vicenza 0, Bologna 0, a Palermo, Palermo 0, Verona 0. In rapidissima sintesi, prego, le note di cronaca via Roma. 207 milioni di incasso, battuto ogni record, 80 mila spettatori, una rete almeno fino a questo momento, queste le cifre di Roma-Nazio, 94esimo derby della capitale, diretto da Gonella sotto un cielo completamente sereno. Uno spettacolare tiro scoccato da una ventina di metri dal mediano Nanne ha permesso alla Lazio di andare in vantaggio al 35esimo, vantaggio che la squadra ha condotto in porto, sfiorando ancora il successo. Fino al gol la partita era stata condotta con fasi alterne dalle due squadre, con i portieri poco impegnati o impegnati in un lavoro di ordinaria amministrazione, in quanto le retroguardie molto attente erano riuscite a bloccare tutti gli spunti degli opposti attacchi. La Lazio aveva collezionato cinque calci d'angolo uno dietro l'altro e la Roma aveva calciato due punizioni al 21esimo e al 24esimo con Spadoni e Scaratti. La prima, quella di Spadoni, era andata fuori di un soffio. Al 35esimo il gol. Nanni a tre quarti di campo intercettava un pallone respinto dai difensori giallorossi e avanzava verso l'area della Roma. E dopo aver superato Indiribli in due avversari faceva partire un tiro leggermente parabolico che entrava nel 7 alla sinistra di Ginulfi, rimasto sorpreso dalla traiettoria. Alla Lazio si offriva ancora qualche altra occasione ma il risultato non mutava. L'incontro tuttavia resta ancora aperto. Ha avuto inizio da tre minuti il secondo tempo. Il risultato è sempre Roma 0, Lazio 1, rete di Nanni al 35esimo. A voi Milano. Grazie Roma. Milano è in ritardo di un minuto rispetto a Roma. Il secondo della ripresa 0 a 0 ovviamente ancora fra Inter e Napoli. A Milano è primavera. Sole schietto, spalti gremiti, gioco adeguato al quadro e cioè fresco, dinamico, spumeggiante. Avendo gli uomini di maggior classe a metà campo, Corso e Moro da una parte, Giuliano e Improta dall'altra. È abbastanza conseguente che sia stato in questa zona che si sono viste le cose migliori. Quasi mai impeccabili invece le conclusioni, quando lo sono state, Vieri e Carmignani non si sono mai lasciati sorprendere. La migliore variante tattica del Napoli uso esterno rimangono le proiezioni di Vovassori in attacco. Il miglior numero degli schemi offensivi interisti, il cross e di Corso per le acrobazie di buon insegna. Sicché non è forse un caso che il Napoli abbia avuto la migliore occasione al 38esimo, quando una proiezione di Vovassori metteva Giuliano nelle condizioni di battere libero a rete da media distanza, ma il capitano del Napoli perdeva il tempo del tiro e se lo faceva ribattere. E non è forse un caso che l'Inter a sua volta sia andata vicina al gol, soprattutto al 39esimo, quando un colpo di testa di buon insegna su cross e di Corso costringeva Carmignani ad un difficile intervento in due tempi. Gioco comunque sufficientemente dignitoso, agonismo certamente presente ma contenuto, anche per lo zero dell'arbitro aggiunti che ripetiamo sta dirigendo davanti a Spalti Gremiti. 0-0 al secondo della ripresa, a voi Firenze. A Firenze non è ancora iniziato il secondo tempo, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco. La Fiorentina sta conducendo sul Milan per due reti a uno, le reti di Prati al quarto, di Longoni al ventesimo e di Clerici al 39esimo. Il gol del Milan freddo quando i giocatori non hanno ancora avuto il tempo di prendersi le misure. L'azione parte dalla metà campo milanista con Benetti che serve lungo Turone, Ramon si butta in avanti con Foga come faceva lo scorso anno nel Geno e poi serve Prati in aria. Rimane ferma la difesa della Fiorentina e Prati può rigirarsi, liberarsi dell'avversario che è Caldiolo e segnare a fil di palo. Veemente la reazione della Fiorentina è che si concretizza con due violenti tiri di Clerici e Saltutti. Il pareggio arriva al ventesimo, c'è un fallo di Rosato su Clerici al limite dell'area, batte Longoni, un bolide di sinistro e la palla si insacca alla destra di Belli. Tanto è stato violento il le tiro che il portiere del Milan non ha avuto neppure il tempo di muoversi. Al 39esimo la Fiorentina passa in vantaggio, rimessa laterale di Merlo per Clerici che si porta quasi sulla linea di fondo, recupera il pallone che sta per uscire, rientra di qualche metro ed in diagonale passecco ancora una volta Belli. Sulle ali del successo la Fiorentina per poco non va ancora a rete con caso. Il risultato del primo tempo rispecchia l'andamento del gioco con i padroni di casa più attivi, dinamici e determinati. Da notare che al ventunesimo dopo il parete della Fiorentina nel Milan è entrato Sogliano al posto di Bigon uscito per un leggero stiramento. Gli angoli 5-0 per la Fiorentina, spettatori circa 55.000, giornata stupenda, terreno in discrete condizioni, arbitra Lobello. È iniziato da due secondi il secondo tempo, ripetiamo il risultato, Fiorentina 2 Milan 1, a voi Bergamo. Siamo al terzo della ripresa qui a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Torino. Gioco agile e vivace dell'Atalanta per 25 minuti, impressione positiva di una squadra che sta superando un periodo di crisi. Le manovre di Bergamaschi sono appariscenti ma hanno poca sostanza, soltanto al 39esimo l'esordiente Musiello colpisce bene di testa e costringe Castellini alla parata. Il Torino alle migliori occasioni, clamorosa addirittura quella fallita da Toschi solo davanti a Pianta. Subito dopo Pulici scatta benissimo, ripete l'affondo che lo portò a gol domenica scorsa contro la Juventus ma questa volta la conclusione è approssimativa e Pianta riesce a salvarsi. Partita veloce e scorbutica, scontri decisi tra Vianello e Pulici e il torinese viene anche ammonito per simulazione. Da segnalare infine un gol dello stesso Pulici, giustamente annullato per fuorigioco. Dirige Riccardo Lattanzi, davanti a 25 mila spettatori in una giornata di sole, angoli 4 a 2 per l'Atalanta. Ripete il risultato al quarto della ripresa, 0 a 0 tra Atalanta e Torino. A voi Terni. A Terni è il settimo della ripresa, la Ternana conduce sempre per 1 a 0 sul Cagliari, stadio al limite della Capienza in una luminosissima giornata di sole, più o meno 33 mila agli spettatori, l'arbitro è Gussoni. La Ternana sostituisce lo squalificato stopper Rosa con Brutto, debuttante in Serie A. Il Cagliari conferma la formazione del 2 a 2 con la Roma. I padroni di casa prendono subito l'iniziativa, il Cagliari lascia fare, rischiando già al primo minuto quando in seguito ad uno scambio, Marinai-Cardillo che lancia quest'ultimo in area di rigore, il pallone traversa pericolosamente lo specchio della porta di Albertosi. Al decimo minuto la Ternana va in gol, da al centramanti Iacolino al libero Mastro Pasqua che entra in area e con un tiro basso di precisione batte Albertosi in uscita. Alla mezz'ora esatta il Cagliari sfiora il pareggio con un colpo di testa di Roffi di un soffio a lato, a 5 minuti dalla fine cannonata in area di Gori di poco alta e proprio in chiusura a Cartillo manca per due volte il raddocchio nella seconda occasione anche se in fuorigioco colpisce la traversa. Gli angoli sono 5 a 1 per i Cagliari, il punteggio ripetiamo 1 a 0 per la Ternana quando è l'ottavo minuto della ripresa a voi Cesena. A Cesena le due squadre sono ancora in parità 0 a 0 ma in questo istante, anzi pochi secondi fa, l'arbitro Francescon ha concesso un calcio di rigore in favore del Cesena per un atterramento in area del mediano Romagnolo Festa. È una splendida giornata di sole e lo stadio della Fiorita è gremito in ogni ordine di posti. Il pallone viene messo in questo istante sul dischetto chiedo di mantenere la linea per pochi secondi si appresta a battere il tiro dagli 11 metri l'ala sinistra del Cesena, Carnevali. I giocatori sono tutti schierati al limite dell'area di rigore l'arbitro fa retrocedere Pirazzini qualche contestazione fra i giocatori del Cesena e del Foggia. Ecco, l'arbitro non ha ancora dato ordine di eseguire il rigore l'ha dato in questo istante, il tiro di Carnevali è lento ma la palla entra in rete, Cesena 1 appoggia 0 all'undicesimo del primo tempo a voi studio. Bene Pasini, grazie così, vediamo in breve altri ceni di cronaca in breve ovviamente poiché abbiamo tre partite sullo 0-0 dopo i primi tempi comunque a Torino Juventus 0, Sampdoria 0, calci d'angolo 7-1 per la Juventus terreno buono 35.000 gli spettatori, arbitra il signor Panzino a Vicenza, Lannerossi Vicenza 0, Bologna 0, calci d'angolo 3-1 per il Vicenza terreno ottimo 18.000 gli spettatori, arbitro Mascali a Palermo, Palermo 0, Verona 0, 2-1 per il Palermo gli angoli terreno buono 20.000 o poco meno gli spettatori, arbitra il signor Casarin vediamo la situazione in Serie B dopo i primi tempi Arezzo 0, Taranto 0, Bari 1, Como 0, Brescia 0, Catanzaro 0 Brindisi 1, Perugia 1, Catania 0, Monza 0, Genoa 2, Ascoli 0 Lecco 0, Reggiana 0, Regina 0, Novara 0, Varese 1, Mantua 0 due primi tempi in Serie C a Trento, Trento 3, Triestina 1 a Messina, Messina 0, Lecce 2, attenzione olimpico a voi la linea e il decimo minuto del secondo tempo risultato immutato conduce sempre da Lazio per una reti a 0, rete messa a segna ricordiamo al 35esimo minuto del primo tempo dal mediano Nanni con un tiro teso e leggermente parabolico intanto la Lazio cercava di riportarsi in attacco stiamo assistendo da circa 5 minuti alla pressione della Roma nei confronti dell'area laziale ora c'è un calcio di punizione concesso per la Roma battuto e Cordova che ha recuperato la palla avanza di qualche metro attenzione a Meri, attenzione a Meri la Fiorentina ha portato a 3 il suo vantaggio sul Milano per la linea ecco in questo momento che la Lazio si riporta l'attacco è il numero 7 Garlaschelli che è impegnato in lotta con il suo diretto avversario Peccenini la pala è stata respinta dal terzino è ridata a Spadoni sul settore di estrema sinistra ecco Spadoni che rimette in azione Scaratti scattato appuntamente in avanti respinge ancora Wilson e manda il pallone in faro laterale per la rimessa in gioco della Roma il pallone ora sui piedi di Franzotto che avanza nella posizione di mezzo sinistro avanza ancora controllato da Receconi il giocatore cedora la pala a Salvori poi scatta, riprende il passaggio di ritorno tiro parata a terra delle portiere Pulici al limite dell'area riporta vediamo le formazioni delle squadre la Lazio ha in campo Pulici, Facco, Martini Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Receconi Chinalia, Frustarupi e Manzervisi per la Roma giocano Ginulfi, Scaratti, Peccenini Salvori, Bet, Santarini, Orazzi, Spadoni Mugliese, Zancordova e Franzotte sta attaccando in questo momento la Lazio sul settore di sinistra è pronto a scattare Chinalia per recuperare passaggio è in aria spostato anche gli a sinistra rimette con una coprazzia al pallone al limite dell'area al centro e spinge Santarini alzando il pallone a Candela il pallone smorzato nella sua traiettoria da Nanni che lo mette a terra colpisce la palla ancora Frustarupi ma serve immuteriamente Salvori e subito il pallone termina a Cordova nel cerchio del centro campo allarga il gioco sull'estremo settore di sinistra dove in questo momento è scattato Bet il quale effetto ha un traversone per Mugliese, un colpo di testa liberatore da parte di Facco poi respinge successivamente ancora Martini spedendo il pallone in avanti intervento del signor Gonella che dirige l'incontro e vediamo che il gioco in questo momento è fermo in tribuna d'onori assiste al derby di Roma il presidente del consiglio onorevole Giulio Andreotti ora vediamo che sta per essere battuto un calcio d'angolo per la Roma e al termine di questa azione passeremo la linea a Milano è pronto per batterlo Spadoni ha portato la palla nell'area d'angolo cede il pallone al limite ancora Mugliese anche cerca di liberarsi dall'intervento di Rescecconi che respinge il pallone ora è sui piedi di Manservisi che avanza, si libera di Cordova si riporta leggermente verso il centro e quindi serve ancora Frustarupi che è scattato verso la linea mediana del campo cede ancora il pallone a Manservisi che supera il suo diretto avversario si spinge al limite dell'area nel settore di destra avanza ancora Manservisi al centro scattato Nanni e Chinaglia il tiro del giocatore è stato ribattuto e c'è un'azione ci sembra di calcio d'angolo dalla parte opposta ma vediamo l'arbitro Gonella intanto si è spogliato e sta per entrare in campo il numero 13 della Roma Morini bene, allora cediamo subito la linea a Milano a voi Milano grazie Ameri è l'undicesimo a San Siro sempre 0-0 fra Inter e Napoli l'Inter in questo avvio di ripresa sembra attaccare con maggiore convinzione di quanto non ne abbia mostrato nei primi 45 minuti un Inter che ricordiamo deve rinunciare a Mazzola e Belugi e che fa seguire il centravanti tattico del Napoli abbondanza da Bedin dopo che nel primo tempo sullo stesso giocatore aveva operato Oriali adesso impegnato invece su Improta poi abbiamo Giuvertoni su Damiani Facchetti su Ferradini che sostituisce come saprete lo squalificato Mariani il gioco di regia è affidato a Corso Moro e Bedin che si giovano dei rientri peraltro non troppo profondi di massa mentre le punte sono Magistrelli e Bonisegna il giovane Napoli di Ciappella età media 23 anni replica con un modulo che vede Vavassori su Buoninsegna Bruscolotti su Magistrelli Rimbano su Massa Esposito Giuliano e Improta a metà campo con abbondanza e immediato sostegno delle punte che sono Damiani e Ferradini un Ferradini atteso con molta curiosità alla prova ma che alle prese con l'esperto Facchetti vede spingersi molte delle proprie velità anche perché non svaria mai verso il centro o a destra rimane fisso nella fascia laterale sinistra e quindi contrastarlo è abbastanza facile nell'Inter il Libor e Burnic nel Napoli Zorlini ha concluso ora un contropiede il Napoli con abbondanza ma il tiro di destro del numero 9 è azzurro e è andato largamente a superare la traversa dalla porta difesa da Vieri siamo al dodicesimo della ripresa a San Siro sempre 0-0 fra Inter e Napoli a T-Firenze a T-Firenze siamo all'ottavo del secondo tempo ed è veramente la sagra del gol qua al comunale di Firenze la Fiorentina sta conducendo sul Milan per 3-1 ecco che c'è adesso un attacco del Milan impostato da Prati Prati ancora in possesso del pallone poi la palla viene deviata in calcio d'angolo dicevamo che è la sagra dei gol la Fiorentina sta conducendo per 3-1 è successo che all'inizio del secondo tempo il Milan si sia portato più in avanti ma nella prima azione di contropiede la Fiorentina ha portato a 3 le sue reti il protagonista è stato Desisti che ha servito poi di precisione caso e la giovane alla destra della Fiorentina con una certa freddezza ha atteso che si portasse fuori dai propri pali il portiere del Milan e poi lo ha infilato di precisione portando a 3 le reti per la propria squadra ricordiamo che nella Fiorentina debutta Roggi che giocava lo scorso anno nell'Empoli il ragazzo ha rappresentato una delle cose più piacevoli del primo tempo ha grinta temperamento e visione del gioco ha contribuito con Orlandini ed Esisti a dare consistenza al centrocampo fiorentino siamo al nono del secondo tempo la Fiorentina ha in vantaggio sul Milan per 3-1 la linea a Bergamo sempre 0-0 a Bergamo siamo al dodicesimo della ripresa tra Atalanta e Torino la partita è sempre movimentata c'è ora un calcio di punizione al limite dell'area Atalantina naturalmente in favore del Torino la barriera è disposta a parte il tiro di Agroppi che finisce molto alto è una partita molto movimentata corre di più l'Atalanta che è andata addirittura vicino al gol al nono con Musello quando Castellini è riuscito a salvarsi in angolo il Torino ancora privo di Cereser Buie e Sala reagisce soprattutto in contropiede grazie alla velocità di Toschi e Pulici ripeto il risultato al tredicesimo della ripresa a Bergamo Atalanta 0-Torino 0 a voi Terni a Terni è il quindicesimo la Ternana è sempre in vantaggio per 1-0 c'è un intervento adesso di un difensore della Ternana la Ternana è sempre pericolosa al secondo Cardillo ancora una volta sfiora il palo al decimo il Cagliari manca il pareggio su un cross di Mancin in Roffi manca clamorosamente di intervento a due metri da Alessandrelli il ritmo comunque è piuttosto blando il Cagliari non fa granché per la verità per raggiungere il pareggio Riva non è mai stato pericoloso è un po' troppo fermo è comunque ben controllato da Agretti che domenica scorsa va detto per inciso se l'era vista con l'altro cannoniere del campionato Chinaglia al tredicesimo è entrato nelle file del Cagliari Tomassini in sostituzione di Brugnera adesso è il sedicesimo il punteggio sempre 1-0 per la Ternana voi Cesena a Cesena siamo al diciottesimo del secondo tempo risultato invariato Cesena 1 Foggia 0 in questo istante Toneato ha operato una sostituzione è uscito Villa ed è entrato Morrone lo stadio della Fiorita è gremito come ho detto prima in ogni ordine di posti al punto che l'altoparlante ha invitato a un certo momento gli spettatori a sgomberare una zona di curva per timore di un eccessivo carico sulle gradinate le due squadre che giocano nelle formazioni annunciate hanno dato vita a finora un gioco robusto e piacevole molto solido il Foggia a centrocampo insidioso in attacco specie con lo sgusciante Braglia e Rognoni due gli episodi principali nel primo tempo una schioccante traversa colpita da Pavone al sedicesimo e un fallo di Bruschini su Braida a pochi passi dalla porta che l'arbitro Francescon non ha punito ha concesso però decimo del secondo tempo per un fallo di Villa sul Mediano Festa un metro dentro l'area ha calzato il rigore Carnevali ha segnato Cesena 1 Foggia 0 siamo al diciottesimo della ripresa il risultato non è cambiato a voi studio qui è lo studio a Torino la Juventus è passata in vantaggio grazie a un calcio di rigore al quindicesimo quindi Juventus 1 Sampdoria 0 il calcio di rigore è stato tirato da Causio a Vicenza la Nerossi Vicenza 0 Bologna 0 e siamo al quattordicesimo quattordicesimo oppure a Palermo Palermo 0 Verona 0 in serie B tre risultati sono cambiati a Brescia il Catanzaro è passato in vantaggio Brescia 0 Catanzaro 1 a Genova terza rete per il Genoa Genoa 3 Ascoli 0 a Lecco Reggiana in vantaggio Lecco 0 Reggiana 1 attenzione olimpico a voi la linea è il diciannovesimo minuto del secondo tempo risultato immutato 1 a 0 per la Lazio e pochi istanti fa si è perso sul fondo un tiro violento scoccato da Orazzi dal limite dell'area su azione di calcio d'angolo ricordiamo che i liberi delle due squadre sono Wilson per la Lazio e Santarini per la Roma pochi istanti fa è entrato in campo Morini che ha preso il posto di Mujesan è uscito Mujesan ora osserviamo sul terreno di gioco lo schieramento delle due squadre sono a confronto queste copie Facco Spadoni nel primo tempo e fino a quando è rimasto in campo aveva tenuto Mujesan Martini, Scaratti Oddi, Orazzi Nanni, Salvori Garlaschelli, Pecenini Receconi, Franzotte Chinalia, Bette Frustalupi, Cordova e Manzervisi appunto aveva giocato Scaratti su Manzervisi ora ricordiamo che Scaratti si è portato in avanti ed è controllato da Martini intanto c'è un'azione da parte da Roma e Salvori che ha superato la linea centrale del campo allunga poi verso Franzotte che sbaglia il passaggio a Cordova recupera Receconi il pallone rilanciato subito in avanti dove vediamo scattare Facco che ha lasciato il suo uomo ecco avanzare Facco è già nella metà campo avversaria avanza verso il limite dell'area di rigore effette in questo momento un cross che attende Chinalia lo ferma con il destro manda ancora in avanti a Nanni che spara a rete la palla è stata rinviata recupera ancora Chinalia si sposta ancora sul settore di sinistra è controllato come al solito da Bette ancora Nanni nella posizione di alla sinistra Nanni ha fermato la palla eccolo ancora al limite dell'area avversaria ha fermato il pallone ritorna indietro poi invita l'azione ancora Martini quest'ultimo rimette il pallone al centro a Receconi attende in questo momento Manzervisi il passaggio viene invece effettuato da Receconi ancora sull'estremo settore di destra per Facco che si spinge ancora in attacco ecco un cross raso terra effettuato verso il centro al limite per Manzervisi che cerca lo spirale per tirare ma la sua azione viene fermata ancora dalla difesa da Roma che respinge viene avanti ancora per ricoprire la palla Martini ma è ora la Roma che si distende in attacco Frustalupi deve intervenire sulla palla passarla indietro al compagno di squadra Wilson che nell'azione d'attacco da Lazio si è avvoltato in avanti Wilson recupera passa ancora Frustalupi sul settore di sinistra e da Frustalupi ancora verso il centro a Nanni che passa al centro ancora verso Chinalia passaggio di ritorno Nanni a limite dell'aria rimette ancora in avanti a Chinalia e recupera ancora un giocatore laziale ma viene messo a terra proprio in aria giallorossa l'azione prosegue e adesso vediamo sull'azione di controattacco della Roma ecco Spadoni che ha dato il pallone indietro a Cordova quest'ultimo rilancio ancora sull'estremo settore di sinistra per Franzot e scusa Meri qui è Cesena ha segnato ancora il Cesena con Scala la situazione è la seguente Cesena 2 foggia 0 per la linea azioni velocissime da una parte dall'altra ora è Frustalupi che ha invaso la metà campo avversaria avanza ancora rimette il pallone verso il centro dove accorre in questo momento Martini che ha recuperato il pallone attende sulla sinistra libero Nanni ma vediamo che il terzino preferisce dare ancora la palla a Frustalupi nella posizione della destra scocca il tiro sul fondo al ventunesimo della ripresa 1-0 per la Lazio rete ricordiamo segnata da Nanni al trentacinquesimo al primo tempo a voi Milano dove si gioca il ventesimo della ripresa è invariata ovviamente la situazione altrimenti avremmo interrotto i colleghi 0-0 fra Inter e Napoli un Napoli che regge molto bene il campo e l'impegno grazie a schemi evidentemente studiati preventivamente e bene assimilati da tutti i giocatori e in particolare da quelli del centrocampo è proprio in questa zona che gli ospiti riescono a tenere botta nei confronti di un Inter favorita indubbiamente dalla maggior classe ma sfavorita a nostro avviso da un senso di improvvisazione cui si affida soprattutto in attacco che non sempre giova all'efficacia delle sue manovre sfrutta di ogni modo l'Inter in questo momento un calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Carmignani lo batte corso lungo parabolico di sinistro esce Carmignani molto bene le spinge di pugno raccoglie abbondanze e allontana la minaccia al ventunesimo a San Siro della ripresa 0-0 fra Inter e Napoli a voi Firenze siamo al sedicesimo del secondo tempo risultato invariato è sempre la giornata che conduce sul Milan per tre reti a uno e il giocatore della Fiorentina che ricordiamo al quinto del secondo tempo aveva portato a tre appunto le reti per i padroni di casa è adesso uscito dal campo e viene sottoposto alle cure mediche il Milan si era sbilanciato tutto in avanti la Fiorentina aveva cercato ovviamente di controllare il gioco senza lasciarsi scappare alle occasioni profizie per partire in contropiede due sole segnalazioni sul nostro pacchino al tredicesimo un cross di Acherugi sul quale era intervenuto con sicurezza su Perchi e al quindicesimo un altro cross di Prati per Rivera che era stato preceduto di testa da Longoni siamo al diciassettesimo del secondo tempo risultato invariato Fiorentina in vantaggio per tre a uno sul Milan mentre Ficcaso è sempre fuori dal campo e vediamo Sormani che sta preparandosi ad entrare per prendere il suo posto a voi Bergamo leggermente ridotto il ritmo della partita qui a Bergamo sempre 0-0 ovviamente tra Atalanta e Torino al diciannovesimo sono ancora gli atlantini ad avere l'iniziativa ma non riescono però a creare problemi per Castellini su un altro errore di Maggioni ancora situazione favorevole per il Torino poco fa che Agroppi peraltro non riesce a sfruttare partita molto equilibrata sempre 0-0 il risultato al ventesimo della ripresa voi Terni è il ventitresimo a Terni e proprio in questo momento Riva pareggia per il Cagliari c'è stato un tiro da lontano di Nenè la parata di Alessandrelli che comunque è riuscito soltanto a respingere il pallone è intervenuto Riva all'ultimo momento e ha messo dentro quindi al ventitresimo il Cagliari ha pareggiato uno a uno la situazione qui allo stadio liberati quando è il ventiquattresimo della ripresa a voi Cesena a Cesena siamo al venticinquesimo il risultato è il seguente Cesena 2 Foggia 0 rete di Carnevali su rigore al decimo del secondo tempo al ventiduesimo rete di Augusto Scala conclusione di una splendida azione sul fronte destro dell'attacco Romagnolo azione di Brignani traversone al centro finta del centravanti Braida molto intelligente questa finta che ha fatto filtrare la palla verso Scala gran tiro al volo dell'interno Scalo e 2-0 per il Cesena un minuto dopo lo stesso Scala ha mancato un'occasione favorevole per segnare ancora a Cesena al ventiseesimo Cesena 2 Foggia 0 a voi studio qui è lo studio a Torino al ventitreesimo la Juventus è sempre in vantaggio sulla Sampdoria per una rete a zero ripetiamo la rete è stata segnata al quindicesimo da Causio sul rigore un rigore concesso per un fallo nei confronti di Bettega sempre 0-0 e siamo al ventesimo a Vicenza la Nerossi Vicenza 0 Bologna 0 a Palermo Palermo 0 Verona 0 e siamo al ventesimo in Serie B il Brindisi è passato in vantaggio Brindisi 2 Perugia 1 Lascoli a Genova ha accorciato le distanze Genoa 3 Ascoli 1 comunque rivediamo un attimo la situazione Arezzo 0 Taranto 0 Bari 1 Como 0 Brescia 0 Catanzaro 1 Brindisi 2 Perugia 1 Catania 0 Monza 0 Genoa 3 Ascoli 1 Lecco 0 Reggiana 1 Regina 0 Novara 0 Varese 1 Mantua 0 Attenzione olimpico a voi la linea sono passati 25 minuti dall'inizio del secondo tempo sta attaccando la Lazio Frustalupi parte il tiro bloccato da Ginulfi a cui perde poi Scusa Enrico 27esima Cesena Cesena ha segnato ancora con Braida Cesena 3 Foggia 0 a terra linea Sulla paranta effettuata da Ginulfi è scattato Salvori che recupera la palla la dà quindi a Morini ricordiamo è l'uomo che è entrato nel secondo tempo in istituzione di Mujesan che è uscito ecco vediamo ancora Salvori sul settore di estima destra cercare di recuperare un pallone che invece gli sfugge con palla che termina in foro laterale per la rimessa in gioco della Lazio Lazio che gioca assai meglio rispetto ai primi 45 minuti di gioco forse la rete ha dato le ali a questa Lazio la Lazio si sta battendo molto bene la partita ha sempre buon ritmo ed è veloce rapidi cambiamenti di fronte ora è Frustalupi che cerca di impostare l'azione per la squadra laziale ha passato il pallone verso il centro a Chinaglia ha retrato ecco uno scambio ancora sul settore di estima destra dove si porta in questo momento in attacco il numero 3 Martini scambia il pallone con Chinaglia che affianca a sé sulla destra Receconi ecco Chinaglia che tenta uno scatto cerca di fidare fra due giocatori ma viene anticipato ancora da Bet che riporta il pallone indietro mentre esce Ginulfi dai pali si sposta sulla sinistra recupera la palla e subito con le mani rimette in azione i propri compagni la Roma cerca generosamente di battersi di portare la minaccia continua costante sotto la porta dei Pulici ma pochi tiri sono partiti dai piedi di attaccanti giallorossi in questo secondo tempo intanto vediamo ora Orazzi che cerca di battersi ma con scarso successo nei confronti del suo diretto avversario recupera sulla destra invece scattando Garlaschelli ha il pallone sui piedi avanza ancora verso il limite dell'aria cerca di fintare entra in aria scocca il tiro impreciso il pallone termina sul fondo e siamo così giunti al 27esimo della ripresa Roma 0 Lazio 1 Rete di Nanni al 35esimo al primo tempo a voi Milano dove è il 25esimo della ripresa il gioco è fermo Damiani lanciato in contropiede sulla destra da un fallito Teichel di Corso che perdeva il contrasto appunto con la destra napoletana si è slanciato ripetiamo nel settore laterale di destra dove è stato affrontato prima da Giubartioni e successivamente da Burnic è terminato a terra e Giunti ha ritenuto di dover ammonire il difensore interista c'è quindi una punizione ovviamente in favore del Napoli sulla linea di battuta sono Abbondanza e Iuliano lo stesso Abbondanza ha dato vita qualche minuto fa uno scambio con Improta il numero 10 azzurro liberato al tiro a qualche passo dalla porta difesa da Vieri lo ha fallito battendo di sinistro in modo piuttosto goffo e largamente al lato dalla porta nerazzurra sta per battere la punizione di Iuliano partita la parabola saltano di testa Ferradini e Facchetti la palla rimbalza ancora nel centro dell'area interista e poi la allontana definitivamente Moro siamo giunti al 26esimo a San Siro sempre 0-0 fra Inter e Napoli e 3 Provenzali a Firenze il 22esimo del secondo tempo sempre la Fiorentina in vantaggio sul Milan per 3 reti a 1 intanto dobbiamo dire che è stato più grave di quello che potesse sembrare in un primo momento il pallo subito da caso l'ala destra della Fiorentina infatti ha dovuto lasciare il campo sulle spalle del massagliatore ed è stato sostituito da Sormani adesso il Milan sta usufruendo di una punizione proprio dal limite dell'area della Fiorentina ricordiamo che sul piano del gioco c'è da segnalare soltanto un bel passaggio di Rivera a Prati con un tiro proprio dal limite dell'area deviato però in corner dai difensori ecco che è partito il tiro di punizione ma è terminato nettamente sul fondo era stato tirato da Prati e poi un'azione in contropiere della Fiorentina da Clerici a Saltutti con un tiro parato da Belli siamo al 23esimo del secondo tempo con la Fiorentina che conduce sempre sul Milan per 3 reti a 1 ricordiamo i gol segnati nel primo tempo da Prati da Longoni da Clerici e nel secondo da caso a voi Bergamo 25esimo a Bergamo sempre 0-0 la situazione tra Atalanta e Torino c'è un ennesimo corner da Atalanta mischia in area torinese salta di testa Agroppi e quindi libera definitivamente Zecchini l'Atalanta sta mettendo un po' le corde di Torino in questa fase della partita ma Castellini ripetiamo non ha dovuto ancora intervenire in modo direi miracoloso l'iniziativa è sempre comunque dei Bergamaschi una squadra che ripetiamo sta dimostrando di essere ormai lontana dalla crisi che l'aveva afflitta nelle recenti domeniche ripete il risultato al 22esimo a Bergamo 0-0 tra Atalanta e Torino a voi Terni è il 29esimo a Terni e il Cagliari è riuscito dunque a raggiungere il pareggio al 23esimo con Riva Nenè era sceso sulla destra una lunga discesa che si era conclusa con un gran tiro il portiere della Ternana Alessandrelli era riuscito soltanto ad alzare il pallone Riva era proprio lì e si è limitato a mettere dentro col petto fino a quel momento il gioco era piuttosto scaduto deludente da parte del Cagliari ricordiamo che il gol di Riva ha pareggiato quello di Mastro Pasqua il libero della Ternana ottenuto al decimo del primo tempo al 25esimo è uscito per qualche momento Gori del Cagliari leggermente infortunato adesso il Cagliari è più impegnato più dinamico anche se in questo momento è la Ternana a riportarsi sotto con il suo libero Mastro Pasqua quindi 1 a 1 a Terni tra Ternana e Cagliari quando è la mezz'ora a voi Cesena a Cesena siamo al 32esimo dalla ripresa il risultato è invariato Cesena 3 Foggia 0 il Cesena che nel primo tempo sembrava intimidito nei confronti del Foggia è ora letteralmente scatenato descrivo brevemente la terza rete del centravanti Braida scaturita da un lungo lancio dell'interno scala Braida ha atteso l'uscita del portiere Trentini e l'ha battuto con un tiro molto preciso ed angolato 13 minuti al termine e il Cesena è ancora in vantaggio per 3 a 0 vai studio qui è lo studio a Torino siamo al 26esimo è situazione di parità Juventus 1 Sampdoria 1 la Sampdoria è pervenuta al pareggio al 24esimo con Rossinelli che ha segnato con un bel colpo di testa quindi ripetiamo al 27esimo ora a Torino Juventus 1 Sampdoria 1 a Vicenza la Nerosi Vicenza 0 Bologna 0 e siamo al 29esimo 27esimo a Palermo Palermo 0 Verona 0 in Serie B a Bari il Como è pervenuto al pareggio Bari 1 Como 1 a Brescia il Catanzaro ha raddoppiato Brescia 0 Catanzaro 2 a Genova quarta rete per il Genoa Genoa 4 Ascoli 1 Comunque ribadiamo nell'ordine i parziali Arezzo 0 Taranto 0 Bari 1 Como 1 Brescia 0 Catanzaro 2 Brindisi 2 Perugia 1 Catania 0 Monza 0 Genoa 4 Ascoli 1 Lecco 0 Reggiana 1 Regina 0 Novara 0 Varese 1 Mantua 0 Atea Meri 14 minuti alla conclusione dell'incontro sta attaccando la Lazio e c'è anche un tentativo da parte del numero 7 della squadra razziale si tratta di Garraschelli di aiutarsi nei confronti del suo diretto avversario che ha commesso fallo nei suoi confronti quindi c'è un calcio di punizione che viene abbattuto a tre quarti di campo dalla metà campo giallorossa ed è Receconi pronto sul pallone per battere il tiro poi è Manzervisi che tocca invece all'indietro per Frustalupi ecco Frustalupi che ritorna ancora all'indietro è controllato da Cordova cede il pallone a Nanni su cui sta giocando Salvori ecco Nanni che ha fermato la palla poi scatta passa il pallone a Receconi il passaggio di ritorno non riesce e Salvori che si porta rapidamente all'indietro recupera il pallone e lo sospinge ancora in avanti siamo ripetiamo al 32esimo minuto del secondo tempo la Lazio è in vantaggio per una rete a zero e per il risultato ottenuto su questo campo fino a questo momento della squadra razziale lo diciamo per inciso naturalmente e anche per gli altri risultati sugli altri terreni a 13 minuti dalla conclusione della partita la Lazio è sola in testa alla classifica della Serie A sta attaccando la Roma c'è un passaggio di Salvori effettuato al centro dove scattati in questo momento in azione d'attacco Santarini messo a terra c'è un calcio di punizione per la Roma al termine di questa azione passeremo la linea a Milano ecco l'arbitro Gonella che si è fermato nel punto dove è avvenuto l'inflazione ecco che il giocatore Peccennini passa il pallone al giocatore incaricato di effettuare il tiro Cordova e Spadoni uno a fianco all'altro anche Scaratti ritorna indietro ecco Cordova che aggiusta ancora la palla il capitano della Roma sembra l'uomo incaricato di battere questo tiro avendo a fianco a sé ricordiamo Spadoni ancora più sulla sinistra Scaratti è stata formata la barriera vicino al limite dell'area di rigore ecco Cordova che si appresta a battere questo calcio di punizione Frustalupi è pronto a scattare parte il tiro di Spadoni deviato forse all'ultimo momento no azione regolare la palla è terminata sul fondo dove scattati in questo momento in azione attacco Santarini messo a terra c'è un calcio di punizione per la Roma al termine di questa azione passeremo la linea a Milano ecco l'arbitro Gonella che si è fermato nel punto dove è venuto l'inflazione ecco che il giocatore Peccennini passa il pallone nel giocatore incaricato di effettuare il tiro Cordova e Spadoni uno a fianco all'altro anche Scaratti ritorna indietro ecco Cordova che aggiusta ancora la palla il capitano della Roma sembra l'uomo incaricato di battere questo tiro avendo a fianco a sé ricordiamo Spadoni ancora più sulla sinistra Scaratti è stata formata la barriera vicino al limite dell'area di rigore ecco Cordova che si appresta a battere questo calcio di punizione Frustalupi è pronto a scattare parte il tiro di Spadoni deviato forse all'ultimo momento no azione regolare la palla è terminata sul fondo quindi a 12 minuti dalla fine della partita Roma 0 Lazio 1 a voi Milano a Milano è il 31esimo ancora 0 a 0 fra Inter e Napoli Napoli ha corso un brutto rischio proprio qualche secondo fa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Moro e ribattuto di pugno da Carmignani Corso ha potuto raccogliere al limite dell'area con il portiere napoletano ancora fuori dai pali ha indirizzato la sua classica foglia secca verso la porta napoletana ma la misura era piuttosto approssimativa e la palla ha sorvolato la porta dove Carmignani stava rientrando precipitosamente nel frattempo entrambe le panchine hanno provveduto a utilizzare il numero 13 Invernizzi mettendo in campo Bertini al 26esimo in sostituzione di Magistrelli e un minuto dopo Chiappella mettendo in campo Fontana al posto di Ferradini se la decisione di Chiappella può essere comprensibile in quanto ovviamente tiene a difendere questo risultato bianco sul terreno di San Siro meno comprensibile invece rimane quella di Invernizzi che ha tolto comunque una punta in un momento in cui la sua spadra ha bisogno di avere incisività per cercare di sfondare e ha messo in campo un centrocampista ad ogni modo ancora l'Inter ha l'attacco con Corso ben contrastato peraltro da Bruscolotti alla meglio il Napoletano rimpallo che favorisce Improta che avvia subito il contropiede per il Napoli è affiancato sulla destra da Damiani all'interno da Iuliano temporeggia però ancora il numero 10 Napoletano in palleggio alla fine gli ruba la palla Bedinne ma il rimpallo è ancora favorevole a Napoli scambia ancora tra Improta e Damiani scatta però la destra in fuori gioco sospeso quindi il gioco stesso da Giunti che sta dirigendo davanti a Spalti Cremiti siamo al 33esimo 0-0 ancora fra Inter e Napoli in vantaggio sul Milan per 3 redi a 1 da un po' di tempo a questa parte il gioco ha il solito trisce cioè il Milan che attacca con una certa conclusione e la Fiorentina che controlla con sufficiente sicurezza adesso è la Fiorentina che partita in contropiede esattamente con Sormani Sormani attende che un compagno vada a ricevere il pallone poi passa in dietro per un giocatore del Milan esattamente per Benetti che quindi ne approfitta per riproporre un'azione offensiva del Milan Benetti passa a Rivera ecco Rivera che attende che si porti avanti un compagno poi passa lateralmente sulla destra per Snellinger e prosegue così l'azione del Milan ripetiamo sono attacchi continui del Milan ai quali risponde però la Fiorentina con molta sicurezza nel controllo della partita siamo al trentesimo la misurezzata del secondo tempo la Fiorentina in vantaggio sul Milan per 3 redi a 1 a voi Bergamo a Bergamo trentaduesimo sempre 0-0 tra Atalanta e Torino due occasioni favorevoli ai bergamaschi prima Musiello di testa impegnato Castellini e poco dopo l'arbitro Lattanti è sorvolato su un'entrata decisa di Fossatti che è caduto in piena area granata lo stesso arbitro ha ammonito Pellizzaro poco dopo per proteste è stato l'alla sinistra il più in bagno scusa Viola l'Inter è passata in vantaggio con Facchetti 1-0 per l'Inter al trentacinquesimo a terra linea ma l'episodio più sconcertante di questa partita si è verificato poco fa quando alla mezz'ora esatta l'arbitro Riccardo Lattanzi ha dato il finale naturalmente l'arbitro si è subito dopo ricreduto proprio mentre i giocatori si stavano stringendo le mani e si stavano salutando affettuosamente un episodio veramente insolito ripeto il risultato la trentaquattresimo più a Bergamo zero a zero tra Atalanta e Torino a voi Terni è il trentacinquesimo a Terni il risultato è sempre di uno a uno tra Ternana e Cagliari adesso i padroni di casa si sono riportati sotto ma comunque in questo periodo non c'è stato nulla di particolare da segnalare se non un calcio d'angolo per la Ternana a denotare la carenza di gioco di questa parte dell'incontro c'è stato un tentativo di affondo di Riva in questo momento che comunque è stato falciato quasi al limite dell'area di rigore ci sarà un calcio di punizione per il Cagliari siamo al quarantunesimo del secondo tempo il punteggio è sempre di uno a uno scusate correggo siamo al trentaseiesimo del secondo tempo uno a uno tra Ternana e Cagliari a voi Cesena a Cesena mancano sei minuti al termine Cesena 3 Foggia 0 tutte le reti nel secondo tempo al decimo Carnevale su rigore al ventiduesimo scala su passaggio di Brignani e Bella Finta di Braida al ventisettesimo Braida dopo un lungo lancio di scala che ha restituito così la cortesia al suo centroavanti il Foggia nonostante la pesantezza del risultato non vuole arrendersi al 3 a 0 e continua ad attaccare qui è Cesena a voi studio a Torino siamo al trentaseiesimo sempre situazione di parità Juventus 1 Sampdoria 1 ricordiamo al quindicesimo porta in vantaggio la Juventus Causio su rigore al ventiquattresimo pareggia per la Sampdoria Rossinelli a Vicenza trentacinquesimo L'Anerossi Vicenza 0 Bologna 0 al trentaquattresimo a Palermo Palermo 0 Verona 0 un punteggio in serie B è mutato a Brescia Brescia 0 Catanzaro 3 comunque rivediamo la situazione della serie B Arezzo 0 Taranto 0 Bari 1 Como 1 Brescia 0 Catanzaro 3 Brindisi 2 Perugia 1 Catania 0 Monza 0 Genoa 5 Ascoli 1 Lecco 0 Reggiana 1 Regina 0 Novara 0 Varese 1 Mantova 0 linea nuovamente all'Olimpico un attimo Ameri da San Siro Moro ha raddoppiato per l'Inter al trentasettesimo Inter 2 Napoli 0 a terra linea ecco a 8 minuti qui dalla conclusione della partita la Roma sta attaccando cerca di stringere i tempi è costretto però a ritornare ancora indietro il giocatore Spadoni prima di rilanciare ancora la palla l'accompagno di squadra Scaratti un altro traversone sotto la porta Morini di testa c'è un po' di mischia in aria recupera Franzotto che sta per tirare ma all'ultimo momento gli si pone davanti il difensore Facco la traiettoria della palla viene così deviata in calcio d'angolo calcio d'angolo per la Roma che Salvori si appresta a battere sulla sinistra della rete difesa da Pulici la Roma è tutta schierata ora nell'area avversaria in pratica si viene avanti anche Bet vengono avanti anche Santarini arretra Chinalia al limite della propria aria e anche Garlaschelli si riporta all'indietro ripetiamo Roma in attacco in questa fase finale partito il tiro del calcio d'angolo colpo di testa di Santarini Pulici esce perde la palla dove averla recuperata si accartoccia nuovamente sul pallone colpito involuntariamente nella foga del gioco dal numero 13 Morini si accascia a terra ma non dovrebbe essere successo nulla di grave ricordiamo a 7 minuti dalla conclusione della partita sempre la Lazio in vantaggio per una rete a zero la Roma in attacco a voi Milano mancano 8 minuti alla conclusione a Milano come già segnalato nel flash precedente l'Inter ha raddoppiato e ha raddoppiato in modo esemplare con uno dei suoi giovani più interessanti e cioè Adelio Moro che ha raccolto sul limite dell'area una palla vagante se l'è portata sul destro e con un tiro di collo veramente da manuale ha insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro non dando a Carmignani la minima possibilità di intervento in precedenza l'Inter era partita in vantaggio al 35esimo cioè due minuti prima del raddoppio con un bel tiro di buoni segni sfortuna del portiere napoletano deviato proprio sui piedi della corrente Facchetti che con un colpo di piatto destro molto tranquillo non aveva difficoltà a mettere in rete paradossalmente queste due reti dell'Inter sono nate proprio nel periodo in cui sembrava che il centrocampo napoletano fosse riuscito a gelare il gioco e ad addormentare la partita invece c'è stato questo scatto di Boninsegna a cui Vavassori non ha prestato troppa attenzione nell'occasione colpevolmente ovviamente e Boninsegna ha spostatosi sulla sinistra ha potuto battere con il suo piede preferito appunto il sinistro e Carmignani data la distanza molto ravvicinata da cui è stato scoccato il tiro non ha potuto ovviamente trattenere la palla questo lo diciamo ovviamente per dare le responsabilità al portiere napoletano che merita nessuna cioè in questa occasione nuova traversa di Boninsegna il colpo di sinistro del centroavanti nell'azzurro dal limite dell'area si è aspetto contro l'incrocio dei pali alla destra di Carmignani Carmignani ripetiamo nell'occasione del tiro di Boninsegna non ha potuto fare altro che respingere per Facchetti è stato in gioco segnale due minuti dopo Moro raddoppiava per l'Inter ripetiamo con un bel tiro di destro in diagonale che si è insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro e adesso l'Inter sull'abbrivo del successo è di nuovo all'attacco ed ha colto ripetiamo l'incrocio dei pali ancora con un tiro di Boninsegna siamo a sette minuti dal termine a San Siro sempre 0-0 fra Inter e Napoli a voi Firenze a Firenze mancano dieci minuti scusa Ciotti vuoi ribadire per favore il punteggio si hai ragione Bortoluzzi 2-0 per l'Inter scusatemi a sette minuti dal termine a te Firenze a Firenze mancano dieci minuti alla conclusione dell'incontro nulla di nuovo la Fiorentina è sempre in vantaggio sul Milan per tre reti a uno il gioco è diventato spezzettato alquanto falloso un po' di nervosismo in campo soprattutto nelle file milaniste al trentaduesimo da segnalare un tiro di Clevici respinto di pugno da Belli null'altro da segnalare quando mancano nove minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro ripetiamo il risultato Fiorentina 3-1 a voi Bergamo mancano sei minuti a Bergamo sempre 0-0 tra Atalanta e Torino ancora un attacco da Atalanta colpisce al volo Vernacchia ma sulla palla è ben piazzato Castellini che può bloccare da segnalare al trentaquattresimo un tentativo di autogol da parte di Fossati che ha deviato in angolo un traversone di Carelli nient'altro da Bergamo 0-0 la situazione quando mancano circa cinque minuti alla termine a voi Terni a Terni mancano quattro minuti alla fine della partita il punteggio è sempre 1-1 tra Ternana e Cagliari i padroni di casa continuano a premere arrivano ai limiti dell'area di rigore del Cagliari ma li si fermano non riescono più a infilarsi dietro l'ultima barriera dei Cagliaritani gli avversari dal canto loro si limitano al cantropiede più che soddisfatti di un pareggio ottenuto in un momento particolare un pareggio un po' a sorpresa adesso la partita è ferma perché verrà battuto un fallo laterale per la Ternana quasi all'altezza dell'area di rigore del Cagliari 1-1 quando mancano 3 minuti al termine dell'incontro a voi Cesena a Cesena manca appena un minuto al termine della partita il Cesena è in vantaggio per 3-0 scusa Pasini l'Atalanta si è portata in vantaggio al 41esimo con un gol di testa del debuttante Musiello il suo centravanti ripetiamo a 4 minuti dal termine Atalanta 1 Torino 0 a te Pasini la linea ripeto il Cesena è sempre in vantaggio per 3-0 c'è in questo istante un tiro del mediano sinistro Trinchero molto alto sulla traversa nient'altro da segnalare a voi studio a Torino siamo al 42esimo situazione di parità Juventus 1 Sampdoria 1 a Vicenza al 40esimo Lanerossi Vicenza 0 Bologna 0 a Palermo al 40esimo Palermo 0 Verona 0 in Serie B è cambiato un punteggio a Catania il Catania è passato in vantaggio Catania 1 Monza 0 ci segnalano in questo istante a Genova sesta rete Genova 6 Ascoli 1 attenzione a me riterai la linea ovviamente sino al termine della partita e interventi su Roma per novità o finali dagli altri campi a te Ameri d'accordo Bortoluzzi mancano due minuti alla conclusione dell'incontro pochi istanti fa un calcio di punizione calciato da Scaratti è terminato molto alto sopra la traversa la rimessa in gioco sull'azione del calcio di punizione scusa Ameri e la partita di Cesena è terminata in questo istante con questo risultato Cesena 3 Foggia 0 a terra linea Wilson rimette al centro per Chinalia esce Ginulfi addirittura con la testa e riesce a respingere la palla Ginulfi è uscito fuori dalla propria area intanto vediamo ancora impegnato sul settore di destra dell'attacco della Roma a Cordova un giocatore della Lazio è andato a terra si tratta di Manzervisi si rialza mentre Cordova batte un calcio di punizione nel cerchio del centrocampo recupera il pallone Santarini ora in attacco ecco Santarini che avanza verso il limite dell'area avversaria è sempre ostacolato nella sua azione a Franzotto sulla sinistra Franzotto entra in aria cross sottoporta deviazione da parte di un difensore recupera ancora numero 5 Oddi passaggio effettuato sulla sinistra per Nanni che scatta sulla linea laterale poi passa il pallone a Frustalupi quest'ultimo restituisce ancora la palla verso il compagno di squadra Oddi che rilancia ancora verso Nanni rimasto accanto alla linea laterale a Frustalupi in avanti ancora verso Garlaschelli respinge la difesa della Roma manca un minuto alla conclusione dell'incontro è ancora Oddi impegnato nel fermare l'azione dei giocatori giallorossi con un passaggio successivo a Frustalupi che scambia ancora l'indietro con Nanni si smarca Garlaschelli Frustalupi sulla sinistra ricevuto passa Garlaschelli che è scattato ecco il giocatore laziale che entra in aria esce Ginulfi superato Ginulfi tiro la palla è fermata da un difensore prima che varchi la linea della porta mentre successivamente vediamo ancora un disimpegno da parte di Pecennini dobbiamo ricordare che la Lazio non avendo tirato subito ha mancato soprattutto in questo finale di partita due occasioni intanto vediamo in attacco ancora la Roma fermata l'azione del numero 7 della squadra giallorossa Orazzi da un intervento del numero 13 Petrelli che ha sostituito Receconi ecco intanto vediamo la rimessa in gioco e in questo momento mentre esplode lo stadio olimpico l'arbitro Gonella dà il segnale di chiusura dell'incontro le bandiere bianco celesti della Lazio che erano rimaste nascoste in pratica perché tutta la partita spuntano ora a sventolare soprattutto nella tribuna centrale sul nostro settore di sinistra cosa possiamo dire di questa partita meritata la vittoria della Lazio che prima ha segnato e poi ha meritato il gol e la vittoria quindi che ha conquistato giocando contro la Roma è riuscita la Lazio a farsi pericolosa oltre che naturalmente a bloccare le azioni offensive della squadra avversaria la Lazio ricordiamo è pervenuta al successo al 35esimo grazie ad un tiro spettacolare di Nanni che con Receconi Frustalupi Wilson è stato dei migliori in campo il tiro del mediano teso e leggermente parabolico si è inzaccato dal 7 alla sinistra della rete difesa da Ginulfi la Roma ha saputo rendersi pericolosa a tratti ma non ha minacciato mai seriamente la rete laziale i laziali ricordiamo hanno anche sfiorato il raddoppio soprattutto nel secondo tempo quando ripetiamo la Lazio ha impostato meglio il suo gioco e ha saputo fare molto di più che non nel primo tempo i giocatori laziali si sono portati a ricevere l'applauso della folla sotto la tribuna ripetiamo alla nostra sinistra orano abbandonano il terreno di gioco ha segnato Nanni al 35esimo minuto del primo tempo la Lazio ha battuto la Roma per 1-0 a te Bortoluzzi prima di collegarci con gli altri campi di gioco la Stock vi ricorda che la Roma secco e vigoroso di Stock 84 e la raffinata delicatezza di Royal Stock hanno un segreto tutta l'esperienza Stock qui è lo studio centrale per cortesia una panoramica per i soli finali o parziali a te Ciotti a un minuto dal termine Inter 2 Napoli 0 a te Firenze a Firenze mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro Fiorentina 3 Milan 1 a voi Bergamo a Bergamo mancano un minuto alla conclusione dell'incontro Atalanta 1 Torino 0 a voi Terni a Terni risultato finale Ternana 1 Cagliari 1 a voi Cesena a Cesena risultato finale Cesena batte Foggia 3 a 0 a voi studio a Torino risultato finale Juventus e Sampdoria 1 a 1 a Vicenza finale Lanerossi Vicenza e Bologna 0 a 0 a Palermo finale Palermo e Verona 0 a 0 a te Ciotti allora per la cronaca mancano 30 secondi alla conclusione un tiro di abbondanza da Bergamo risultato finale Atalanta batte Torino 1 a 0 a te la linea d'accordo mancano 30 secondi ripetiamo alla conclusione in questo momento Giunti che ha diretto davanti a Spalti Cremiti sanziona alla fine della partita che vede l'Inter vittoriosa per 2 a 0 con reti di Facchetti al 35esimo della ripresa e raddoppio di Moro al 37esimo l'Inter ha costruito la sua vittoria sfruttando soprattutto la maggiore esperienza a nostro viso una maggiore esperienza che le ha consentito di colpire l'avversario con un freddo 1 a 2 proprio nel momento in cui il Napoli riteneva di essere riuscito a conquistare lo 0 a 0 mancavano 10 minuti infatti alla conclusione il Napoli continuava a palleggiare molto bene a metà campo e in quel momento è scattato Boninsegna che Vavasori ha ritenuto di poter trascurare il tiro del centroavanti nell'azzurro respinto debolmente da Carmignani è stato raccolto da Facchetti che stava irrompendo e che ha messo nel sacco senza alcuna difficoltà subito dopo Moro ha raddoppiato con un tiro esemplare dal limite dell'aria scoccato in diagonale che si è insaccato nell'angolo opposto a quello di tiro un Napoli che si è battuto molto bene nella zona mediana ma che paga ancora una volta la fumosità delle sue punte l'esperimento del giovane Ferradini si deve considerare fallito almeno limitatamente a questa occasione il più esperto Facchetti lo ha subito domato e anzi ha approfittato della evanescenza dell'avversario per sostenere costantemente l'attacco per quanto riguarda la difesa napoletana impeccabile fino all'episodio dei due gol ha subito una certa rilassatezza che le è stata fatale proprio nel finale dell'incontro l'Inter si è mossa molto bene a metà campo con la regia di Corso e di Moro che è molto affiatato con il numero 11 in Razzurro e che ha segnato un gol ripetiamo esemplare preoccupazione per i milanesi sempre impeccabili sempre molto rigorosi nell'impegno e mai in difficoltà davanti a manovre napoletane molto ben condotte a metà campo ripetiamo ma sempre rifinite piuttosto approssimativamente dalle punte un risultato dunque che premia la maggiore esperienza dell'Inter e castiga ripetiamo non tanto il cattivo gioco del Napoli che è una squadra che gioca un ottimo calcio quanto la fumosità delle sue punte 80.000 spettatori a diretto giunti 2-0 risultati in favore dell'Inter a voi Firenze a Firenze mancano ancora due minuti alla conclusione dell'incontro l'Inter è in vantaggio sul Milan per tre reti a uno c'è adesso una parata di superfi chiediamolo sì provenzali sono in ascolto allora per cortesia passiamo prima a Bergamo e poi andremo a Firenze a te Viola risultato finale a Bergamo Atalanta batte Torino 1-0 Giuliano Musiello 19 anni debuttante in Serie A ha dato all'Atalanta la prima vittoria del campionato segnando il gol vincente al 41esimo del ripresa con un perfetto colpo di testa in seguito a un traversone effettuato da Divina sulla circostanza sono sembrati piuttosto fermi sia Castellini che Mottini incaricati di controllare il giovane attaccante che per la verità aveva già provato in precedenza due tentativi di testa molto precisi con questa affermazione l'Atalanta esce praticamente dal periodo di crisi che l'aveva travagliata nelle ultime domeniche e soprattutto a parte la vittoria si ripropone all'attenzione dei tecnici con una prestazione veramente convincente il Torino a un certo momento era ampiamente soddisfatto del risultato di parità anche se bisogna dire il vero nella prima parte dell'incontro ha avuto due grosse occasioni per portarsi in vantaggio partita molto veloce a tratti anche bella sul piano tecnico sicuramente spettacolare la diretta il signor Lattanzi davanti a 25.000 spettatori gli angoli sono stati 9 a 2 per l'Atalanta ripeto il risultato Atalanta batte Torino 1 a 0 a voi Terni il risultato finale a Terni è dunque 1 a 1 fra Ternana e Cagliari al 23esimo del secondo tempo quando il Cagliari ha pareggiato la Ternana era più che legittimamente in vantaggio andata in gol al decimo del primo tempo con libero Mastro Pasqua in seguito ad un bello scambio con Iacolino la squadra Umbra era sempre stata la più pericolosa con il solito essenziale gioco d'assieme il famoso gioco corto che è tutto fuorché un cincischiare confuso e mettendo in mostra sulla finale del tempo soprattutto Cardillo oltre all'altruista Iacolino nella ripresa il gioco era molto scaduto e approfittando proprio di un vuoto di ritmo al 23esimo Nenesse ne andava sulla destra poi faceva partire un fortissimo tiro che il portiere della Ternana Alessandrelli non riusciva che a rispingere Riva era proprio lì e di petto metteva dentro per i padroni di casa un pareggio che indubbiamente aveva un po' il sapore della beffa poi il gioco precipitava in verticale e quella che poteva essere così una bella vittoria della Ternana si è trasformata in uno scialpo pareggio che comunque da come si erano messe le cose lascia soddisfatto soprattutto il Cagliari il punteggio finale dunque 1 a 1 i calci d'angolo 5 a 4 per il Cagliari qui Terni a voi Cesena a Cesena ripeto il risultato finale Cesena batte Foggia 3 a 0 tutte le reti nel secondo tempo al decimo carnevale su rigore per un fallo di Villa sul mediano festa al 22esimo scala su passaggio di Brignani fintato da Braida al 27esimo il centravanti Braida dopo un lungo lancio di scala nessuno al termine del primo tempo avrebbe immaginato che la partita si sarebbe conclusa con un punteggio così clamoroso in favore del Cesena nei primi 45 minuti di gioco infatti i romagnoli erano parsi quasi intimiditi di fronte al vigoroso gioco dei Foggiani che avevano creato una robusta rete a centrocampo e affidavano a Braglia a Pavone a Rognoni il compito di condurre le manovre d'attacco manovre spesso assai pericolose come al sedicesimo quando Pavone ha colpito con un tiro schioccante la traversa della porta difesa da Mantovani in apertura di ripresa la radice ha cambiato qualche marcatura per frenare soprattutto le incursioni velocissime pericolose di Braglia e al decimo è venuto il rigore che ha sbloccato il risultato i romagnoli avevano reclamato un rigore anche in chiusura del primo tempo per un atterramento del centravanti Braida ma Francescon aveva negato la massima punizione che ha concesso invece al decimo della ripresa dopo il gol segnato su rigore il Cesena è dilagato anche se il Foggia si è battuto con molto orgoglio fino al novantesimo ripeto il risultato finale Cesena batte Foggia 3 a 0 a voi Firenze a Firenze è terminato l'incontro che ha visto la Fiorentina battere il Milan per tre reti a uno riepiloghiamo nel primo tempo è andato subito in vantaggio il Milan con Prati al quarto minuto ha pareggiato la Fiorentina con Longoni su calcio di punizione al ventesimo i Viola sono andati poi in vantaggio al trentanovesimo con il centravanti Clerici e hanno rimpinguato il loro vantaggio al quinto del secondo tempo con l'ala destra Caso ricordiamo che poi Caso nel corso del secondo tempo ha dovuto abbandonare il campo per un incidente dopo essersi scontrato con il numero 13 milanista Sogliano una bella partita sino al terzo gol della Fiorentina poi praticamente non c'è stato più gioco tra tutta una serie di falli praticamente il Milan è apparso troppo nervoso deconcentrato stanco e quindi la partita si è trascinata con il Milan appunto che cercava di attaccare quasi per onor di firma senza avere le idee molto lucide la Fiorentina invece le idee le aveva lucidissime riuscita a controllare il gioco e a portare in porto questo preziosissimo risultato due squadre in un certo senso irriconoscibili irriconoscibile nel bene la Fiorentina irriconoscibile nel male il Milan la Fiorentina ha vinto sul piano della tecnica ma anche su quello della tattica infatti dopo avere subito il gol a freddo proprio dopo appena 4 minuti di gioco non si è lasciata smontare ha macinato il suo gioco ed è riuscita alla fine a prevalere il Milan è apparso stanco deconcentrato soprattutto molto nervoso ha arbitrato Lobello di fronte a 55.000 spettatori circa il tempo è stato ottimo il terreno era discreto i calci d'angolo 5 a 3 per la Fiorentina nel primo tempo 5 a 0 ripetiamo il risultato al comunale di Firenze la Fiorentina ha battuto il Milan per 3 reti a 1 a voi studio centrale bene grazie ai Provenzali dallo studio non resta che riepilogare i risultati a Bergamo Atalanta batte Torino 1 a 0 a Firenze Fiorentina batte Milan 3 a 1 a Milano internazionale batte Napoli 2 a 0 a Torino Juventus e Sampdoria 1 a 1 a Vicenza Lanerossi Vicenza e Bologna 0 a 0 a Palermo Palermo e Verona 0 a 0 a Roma Lazio batte Roma 1 a 0 a Terni Ternana e Cagliari 1 a 1 la classifica al comando con 10 punti internazionale e Lazio seguono con 8 Roma e Milan con 7 punti Napoli Torino e Fiorentina con 6 la Juventus quindi Cagliari Verona e Atalanta 5 punti Ternana Palermo e Bologna 4 Lanerossi Vicenza e Sampdoria 3 punti la classifica dei marcatori dopo la sesta giornata vede sempre al comando con 6 gol Rivera del Milan seguito con 5 gol da Pulici del Torino e Prati del Milan con 4 da Spadoni della Roma e con 3 da Causio della Juventus Chinaglia della Lazio Bigon del Milan Damiani del Napoli Mujesan della Roma e Luppi del Verona vogliate scusare e passiamo ora ai risultati della Serie B ad Arezzo Arezzo e Taranto 0 a 0 a Bari Bari e Como 1 a 1 a Brescia Catanzaro batte Brescia 3 a 0 a Brindisi Brindisi batte Perugia 2 a 1 a Catania Catania batte Monza 1 a 0 a Cesena Cesena batte Foggia 3 a 0 a Genova Genoa batte Ascoli 6 a 1 a Lecco Reggiana batte Lecco 1 a 0 a Reggio Calabria Reggina e Novara 0 a 0 a Varese Varese batte Mantua 1 a 0 la classifica al comando con punti 16 il Genoa seguono con 12 punti Cesena Catanzaro e Varese con 11 Foggia Bari Catania e Brindisi con 10 Arezzo e Como con 8 punti Ascoli e Regina quindi Monza Novara e Reggiana 7 punti Brescia Perugia e Taranto 6 punti Lecco 5 Mantua 4 punti vediamo ora due risultati del campionato di serie C a Trento Trento batte Triestina 3 a 1 a Messina Lecce batte Messina 2 a 0 gentili ascoltatori abbiamo concluso la trasmissione il nostro appuntamento ovviamente a domenica prossima tra due minuti circa sul secondo programma diffonderemo domenica sport grazie dell'attenzione e buonasera abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Roma Sandro Ciotti da Milano Alfredo Provenzali da Firenze Giuseppe Viola da Bergamo Claudio Ferretti da Terni e Piero Pasini da Cesena dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi la Stock di Trieste vi ringrazia dell'ascolto ricordandovi i suoi famosi brandy Stock 84 e Royal Stock se la vostra squadra ha vinto ci vuole un brindisi allora Stock se non ha vinto consolatevi con Stock e si è pareggiato allora Giulia la grappa di carattere